Hi folks, I'm coming on board on Football Manager 23 with Manchester United. Quindi in primis dobbiamo vincere, o meglio dobbiamo mantenere il risultato comunque per passare al turn successivo di Euroconference e poi abbiamo appunto l'Arsenal e il Fulham e vediamo un po'. Comunque contro le RMS scendono in campo Anderson, Scott, Nelson, Botman, Shaw, Matt Romine, Ugarte, Fernandes, Garnaccio, Rashford e Sancho. Però io quasi quasi a Nelson concederei un turno di riposo e anche a Shaw perché comunque contro l'Arsenal di voglia assolutamente in palla ma io direi anche a Scott un turno di riposo perché contro l'Arsenal devono stare tutti belli freschi e poi vediamo un pochino nel secondo tempo come fare. Ho convocato qualche altro giovane come Forson ad esempio discretamente interessante, come McNeil, McNeil scusate, è una bella punta e ruola anche lui, una bella punta di ignoranza e poi ho convocato McAllister anche lui, un classe 2006, qualcosina forse. Ma andiamo a vedere la formazione comunque dell'Erenven. Van Vonderen, Schieren, Hoppert, Vanewik, Van Beck, Bokniewicz, Koida, Haie, Olsen, Alilovic, Kjöller, Sare, Krasnici. Penso alla stessa formazione dell'andata. Haie punizione al centrocampo, però il prendeva la palla a noi, Sancho per Rashford. Rashford che scatta sulla sinistra, scusate, va sul fondo, rientra, Vanewik prende il pallone, Olsen, passaggio lungo ma bravo Botman. Leader difensivo, Fernandes per Rashford, Sancho mamma mia che traversa, Sanchez per Garnaccio, Garnaccio si fa prendere la palla da Koida, Haie ora, tenta il cambio campo, ma Malassia anticipa, palla Sancho sulla sinistra, rientra sul destro, palla in mezzo, Garnaccio, Garnaccio quarto gol della stagione per lui, per il giovine, 5-1 risultato totale. Vi dico, se si mette così, fino il primo tempo, tolgo Rashford, metto Pedro e faccio riposare l'inglese. Botman, Botman lungo per Rashford, che si fa anticipare da Boknevic, ma McTominay va sulla palla. Rashford, pallonettino, no, no, peccato, peccato, potrebbe essere una bella azione. Statistiche a favore nostro, ovviamente, ampiamente, ok, sono felice, però andiamo su tattiche perché ora faccio riposare Rashford e metto dentro il nostro Pedrino. Poi sicuramente intendo di andare a impiazzare Garnaccio, ne vediamo un po', dopo sicuramente, se dovesse comunque rimanere così il punteggio, far esordire qualche giovane. Sanchez per Bruno Fernandes, allargerà, allargerà, no, per Sancho, Sancho rientra, Botman, Botman per Malasia. Passaggio lungo, passaggio lungo, bravo per Sancho in profondità, Sancho in mezzo e Pedrino, la butta fuori però. Sanchez, rimessa lunga per Botman, Fernandes, Fernandes, ed è 2-0, che botte di Fernandes, botta da 20 metri, tirasse un po' più dalla distanza, sarebbe d'uopo. Per ora, siamo 6-1, vado a fare un po' di istituzioni, quindi vado a mettere McNeil per una punta. Allora, voglio provare, Pedro al posto di Sancho, tolgo Sancho e metto McNeil, tolgo Garnaccio e metto Anthony, forse che può fare il trequartista o la mezzana. Sì, ok, allora, togliamo Fernandes e voglio mettere Forson, poi magari faccio entrare anche Hannibal, mi dispiace non far giocare Hannibal. Ok, metto Hannibal come CCQ, può farlo, contrasti 9, manco sotto tortura, mettiamo semplicemente Hannibal come mezzala e via. Ecco qui, andiamo a fine fine partita, Koida per Alilovic, in mezzo, Sara anticipa e siamo 2-1 per noi. Malasia, palla lunga, Vanewic respinge, Kölert, palla lunga, Sara ancora in anticipo, Kölert, Olson dai ragazzuoli. Ragazzi, su, 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 portiamola a casa sta partita. Che stiamo a fare? Anderson per Malasia, ma sono impazziti, mi sono impazziti i miei ragazzi, sono impazziti i miei. Ma dopo un momento di sbandamento tutto liscio come l'olio, quindi, statistica fuori nostro, poco da dire, braccia distese, sì, ottimo lavoro per la gestione della partita. Eeeh, sì, 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 l'abbiamo meritata, eh. 600.000 euro, piglia e porta a casa. E questi sono gli undici che sono chiamati a rimediare ancora a quel pareggio contro il Southampton, Anderson, Scott, Nelson, Botman, Shaw, McTominay, Martinez, Gibbs, White, Garnaccio, Rashford e Sancho. Eeeh, sì, contro l'Arsenal, tostissima, tostissima, sono quinto in classifica, ma almeno un pareggio, almeno, veramente almeno un pareggio vorrei. Arteta, schier, Ramsdale, Tomiasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Cobbminers, White, Saka, Fabio Vieira, Martinelli e Gabriel Jesus. Gabriel per White. White entra al cambio campo. Saka, Saka, Saka dietro per Tomiasu. Tomiasu per Vieira. Cobbminers, traversa alta, mamma mia che rischio. Zinchenko per Vieira. Zinchenko ancora. White. Dai, ragazzi, cominciamo a dire la nostra in questa partita, vi prego. Ah, signore mio. Saliba, Cobbminers. Dietro per Saliba. Eeeh, oh, McTominay, bravo, bravo, bravo. Cioè, noi dobbiamo trovare anche continuità, dobbiamo anche cominciare a vincere partite sporche. Garnaccio ha sparato alta, mannaggia a te, Garnaccio. Ah, non l'abbiamo tirato neanche una volta in porta, tranne Garnaccio che l'ha sparato in curva. Eeeh, singi i pugni. Abbiamo un conto aperto. Motiviamoli così. Facciamo qualche sostituzione. Chi è che sta giocando da schifo? Mamma mia, Garnaccio sei. E mettiamo Anthony. Io te lo direi anche Sancho e metterei Paolinho, che di lui mi fido. Show per Martinez. McTominay. Giochiamolo intelligentemente, non sparachiamola. Ecco, infatti. White. Mannaggia. White per Viera. Bravo Show che chiude la linea di passaggio. McTominay si fa fregare il pallone. Mortacci, vostri. Meno male, meno male. Ma che rischio. Ma era fuori sera, anche fuorigioco. C'è un'altra sostituzione. Mi sono venuti centrocampisti. Alla McTominay mettiamo Ugarte. Dal posto Gips White mettiamo Fernandes. E tolgo Scott e metto Sanchez va, che anche Scott sta veramente cotto. White per Saliba. Coop Miners per Paolinho. Loro. Gabriel. Zincenco. Patinio, non Paolinho. Zincenco ancora. Mamma santa, mamma santa. Se non prendiamo gol io vado in cambio modulo proprio in difensiva perché una volta tanto che porco il diavolo. Porco il diavolo. Porco il diavolo. Fuorigioco o non fuorigioco? Fuorigioco o non fuorigioco? A me non sembrava, eh. Non sembrava fuorigioco onestamente. Infatti l'ha detto concessa. Sempre sti cappero di gol nel finale perché abbiamo un crollino. Io non lo so veramente, ragazzi, non lo so. Non so più come interpretare queste robe. Non lo so, ragazzi, non lo so. Non lo so, non lo so. Ancora gol negli ultimi minuti. Ancora gol negli ultimi minuti. Che schifo. Sono proprio le cose che non tollero. Ma mi feriscono l'anima proprio. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Agito le braccia. Il risultato non mi soddisfa. Brutto, brutto, brutto. E il nostro up and down, up and down, up and down. C'è quello che ci vuole niente che torniamo giù, eh. Porco mondo, arda. Che schifo di partita. Situazione incredibile. Il nostro portavoce, o meglio il portavoce giocatori, Richard Moody, ci dice I giocatori mi hanno detto che non sono felice il tuo modo di gestire la squadra e vorrebbero parlartene. Molti giocatori ritengono che tu abbia perso il controllo dello spogliatoio e che ti manca il sostegno necessario a restare in carica. Quindi cosa vuol dire? Che capitanati dall'infame di Bruno Fernandes, questi giocatori anche loro mi hanno esautorato. Ok, ci sono alcune voci di malcontento. Alcuni ritengono che lo spogliatoio non la segue più e che non sia più la persona giusta per gestire questa squadra. La sola ragione per cui sto avendo difficoltà è perché alcuni giocatori mi hanno deluso. Alcuni di voi dovrebbero farsi un bel esame di coscienza prima di biasimare di me. Ha ragione, l'abbiamo deluso. Mi dispiace, mister. Faremo tutto il possibile per dare una svolta. Varan, poi! Tutto ciò che vi chiedo è che mi avete l'ultima sean di migliorare le cose. Prometto di potervi conquistare. Tutti contenti, braccia distese, credo che sia davvero produttivo e cerchiamo un attimino di salvare il salvabile in questa stagione. Intanto siamo stati accoppiati all'Olympicos per i quarti di finale di Euroconference. Squadra sulla carta abbordabile. Ma ora dobbiamo tuffarci nei quarti di finale contro il DF Cup, contro il Fulham e andiamo a vedere la formazione. Anderson Scott, Nelson Botman, Malasia, McTominion, Ugarte, Gibbs White, Garnaccio, Ruiz e Paoligno. Però è quasi quasi. Faccio giocare anche... Questa volta faccio riposare Botman e metto dentro l'Oan Patrick. Facciamolo giocare il giovine. Al contempo il Fulham di Abelardo si schiera con Adan, Tete, Diop, Adarabioio, Metal Niles, Reed, Adli, Lokonga, Tagliismagno, Dakar e Martial. Gibbs White, punizione in mezzo. Ma esce parla al piede Martial addirittura. Dai ragazzi, dai ragazzi, copriamo questo pallone. Chiudiamo Martial. Dito per Tete. Tete che scatta sulla destra. Adli. Adli cambia lato. Mamma mia, noi eravamo in due e abbiamo perso il contrasto. Abel Ruiz. Bravo Ugarte che recupera l'eroe di Ruiz. Malasia, Malasia. Dietro per Luan Patrick. Malasia per McTominion. McTominion paralunga per Paoligno. Paoligno, grandissimo controllo, forse di tacco. Tire ad Andevi in calcio d'angolo. Rimessa per noi. Scott per McTominion. Ugarte. Ugarte per Luan Patrick. Lampati per Gibbs White. Che è la raga per Paoligno. Malasia ancora in mezzo. Ma tra la niente si spinge. Azione forzata la nostra. Malasia per Gibbs White. Uuuuh. Finta di corpo. Uuuuh. Colpe di Sikarnaccio. Palla fuori. Rimessa per noi ancora. Malasia. Nezza Cassimuna. Gibbs White. Gibbs White si accenta. Prova il tiro. E palla in tribuna. Statistiche un po' me per entrambi. Allora ovviamente si ingipugni. Siete stati. Abbiamo un conto aperto con il Fulham. Però io voglio andare qui. A istruzioni. E voglio mettere passaggi più corti. E più creatività. Vediamo un po' così se riusciamo un pochino a. Eh. Diciamo rompere il fortino del Fulham. Minchia. Niente ancora. Mamma mia che pena. Allora intanto tolgo Nelson. E metto Milenkovic. Forse meglio così. Mamma mia Ugarte. Ugarte anche lui sta facendo il vaccone. Allora qui provo McTominay. E al posto di Ugarte metto Hannibal. Hannibal Lecter. Eh. Ok così. Eh. Davanti cambio qualcuno. Ma per lui se lo voglio fare un po' giocare però. Scott da rimessa. Per McTominay. Scott ancora. Palla mezza l'impallata. Non sai che è successo. Gibbs White. Gibbs White si accentra. Tenta il tiro. Palla fuori. Brutto tiro. Poligno. Poligno per Hannibal. Gibbs White. Gibbs White. Bella per Garnaccio. Bella per Garnaccio. Che anticipa. Adan con un colpettino di testa. Pim. La toccata. E la messa dentro. Bel passaggio. Bella geometria. E questo è un gol veramente strano. Perché Gibbs White intanto sta rendendo bene in quella posizione. Guarda di. Pic. Ciao Adan. Tagli e smagno. Cerca di cambiare lato. Ma ce la stava quasi per fare. Ora McTominay. Paralunga. Per Garnaccio. Ma Robinson arriva prima. Robinson per Loconga. Ancora Andrea Sperera. Tagli e smagno. Daka. Ancora Magno. Ancora. No no. Basta con gli ultimi minuti eh. Basta con gli. Signore. Signore. Io agito le braccia. Abbiamo un conto aperto. Andiamo agito i supplementari. Anderson. Paralunga. Per Garnaccio. Siamo ancora in possesso noi. Gibbs White. Gibbs White. Per Garnaccio. Garnaccio. Si accenta. Berruiz. Traversa alta. Dio. Cribbio. In sto secondo tempo. Vediamo un pochino se possiamo fare qualche cambio. Ma stanno a morire tutti. Allora. Allora. Lascio al posto di Poligno. Anzi non posso fare così. Life Four punta. Al posto di Ruiz metto Sancho. Fernandez al posto di Gibbs White. E andiamo così. Robinson per Veli. V. V. Quello. Adli. Robinson ancora. Melikovic. Muniz. Madonna. Meno male. Scott. McTominay. Fernandez. Luan Patrick. Malasia. Porca. Ma come cappero fa sbagliare quel passaggio. Mortacci vostri. Mortacci vostri. Mortacci vostri. Mortacci vostri. Una sconfitta stupida. Un pareggio all'ultimo minuto di recupero. Anzi. Tempo di recupero. E. Negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare. Pegniamo anche gol. Pegniamo anche gol. Ragazzi. Cioè qua io sbrocco una campana. Non dovremmo perdere queste partite. Ma possibile. E la terza partita in due episodi. Che perdiamo negli ultimi minuti. E la terza partita. E la terza partita. E ora vediamo qui. Vediamo qui il prossimo episodio. Barna. Con le tre trasferte. Io guardo. Nella cosa. In vereconda. In vereconda. In vereconda. In vereconda. Col Southampton. Con l'Arsero un po' prima. Abbiamo preso il gol. E con il Fulham. Due gol. Negli ultimi minuti. Cioè io. Boh. Non lo so. Non ho. Non lo so. Vediamo. Ragazzi. Ci vediamo un prossimo episodio. Ciao.